Musica Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo cammino che della Pasqua ci ha portato alla domenica di Pentecoste, appunto il 23 di maggio, questo grande momento per gli Apostoli e per la Chiesa, anche per la Chiesa attuale. Ecco, noi abbiamo percorso questo tempo di Pasqua, dalla terza domenica ci stiamo frequentando e abbiamo cercato di incontrare Gesù risorto nelle vicende della Chiesa delle Origini, nelle vicende della Chiesa anche del nostro tempo. E noi portiamo Gesù risorto proprio perché abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo, che nel Vangelo di questa domenica viene definito per due volte Spirito di verità. Ecco, allora, è portando lo Spirito Santo che noi arriviamo a Gesù. Senza lo Spirito Santo non possiamo arrivare a Gesù. Allora vorrei semplicemente sviluppare due considerazioni con voi per vivere bene la domenica di Pentecoste, per prepararci alla lettura delle Sacre Scritture, in particolare del Vangelo. Lo Spirito, ci dice il Vangelo, ci dice Gesù nel Vangelo, lo Spirito ci è dato da Gesù e dal Padre per due motivi. Innanzitutto per possedere la stessa testimonianza dello Spirito su Gesù. È Lui che ci parla di Gesù, è Lui che ce lo fa conoscere. E poi per diventare, a nostra volta, testimoni di Gesù. Lo Spirito è colui che conduce gli Apostoli alla comprensione della vicenda che hanno condiviso con Gesù. E conduce gli Apostoli a diventare testimoni di quello che hanno vissuto con Gesù. E questo per due semplici motivi che voglio brevemente accennare. Intanto perché lo Spirito Santo ha costantemente accompagnato la missione e la vita di Gesù. Non c'è nessun momento della vita di Gesù che non veda la presenza stessa dello Spirito Santo. E poi un'altra cosa, perché è proprio lo Spirito Santo, dono del Risorto, che innesta la nostra vita e la nostra storia su Gesù. Altrimenti perderemmo anche di identità e di sapore senza questa azione dello Spirito. Ecco perché allora lo Spirito ci dà la sua testimonianza di Gesù ed ecco perché lo Spirito ci rende testimoni di Gesù. Proprio perché è stato presente in Gesù e proprio perché avvita la nostra stessa esistenza su quella del Signore Gesù. La seconda grande considerazione che voglio offrire alla vostra riflessione è questa. Il Vangelo ci dice, Gesù stesso nel Vangelo ci dice, che lo Spirito ci guiderà a tutta la verità. È molto bello pensare che l'azione dello Spirito non è autoreferenziale. Infatti non parlerà da se stesso. Lo Spirito fa due cose nella nostra vita e possono essere anche il paradigma queste della nostra vita di credenti. Dirà ciò che avrà udito e poi annuncerà le cose future. Ecco, l'oggi della nostra esistenza ha il sapore dello Spirito se con Lui sappiamo riascoltare l'insegnamento di Gesù e se con Lui sappiamo camminare secondo l'insegnamento di Gesù scopriremo le cose future. Ecco, il dinamismo della vita credente non è autoreferenzialità ma accoglienza della voce dello Spirito Santo su Gesù e cammino verso il futuro. Il futuro non è una questione di cose nuove da individuare, da scoprire non è una questione neanche di linguaggi o di comportamenti che possono essere accattivanti il futuro rimane il futuro di Dio di Colui che ci ha creati e di Colui che ci attende ma solo lo Spirito può portarci dentro questo mistero che la Pasqua del Signore ha visto compiersi anche nella storia degli uomini. Buona Pentecoste buon cammino secondo lo Spirito.